Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove faccio il pagellone, le pagelle di ogni giocatore del Napoli quindi il giorno dopo di Leicester City Napoli, la gara d'Europa League dove faccio le pagelle uno per uno come ho fatto sempre Allora, partiamo dal portiere, Ospina, in entrambi le occasioni, per esempio il Napoli ha subito due gol quindi Ospina ha subito due gol ma la colpa non era assolutamente del portiere, la colpa è stata un po' della difesa quindi l'estremo difensore Ospina non poteva fare nulla e secondo me ha fatto una partita discreta non ci sono stati tanti tiri da parte di Leicester e quindi lui non è potuto intervenire molto e quindi non ha fatto degli interventi tranne il primo tiro di Leicester, molto pericoloso Ospina ha fatto un grandissimo intervento, un bel intervento e ha fatto evitare a Leicester di segnare già il gol appena iniziata la partita Ospina secondo me è una sufficienta se la merita, se è ad Ospina secondo me è buono Ospina è un portiere che ti dà sempre sicurezza anche con i piedi, è nettamente più sicuro di Meret Ospina ha un po' i problemi fisici e quello è il problema suo che ha un po' le ossa fragili e purtroppo ha le ossa fragili però il secondo lo può fare, il secondo di Meret lo può fare ma per sostituire Meret perché ora Meret sta fermo per infortunio per sostituire Meret è un portiere di assoluta affidabilità Di Lorenzo, Di Lorenzo che è stato adattato a sinistra perché lui è terzino destro è stato adattato a sinistra al posto di Mario Rui perché è mancato il maestro Mario Rui che lui era il terzino sinistro, stava Di Lorenzo a destra e si faceva tutto normale invece no, Mario Rui si è infortunato contro la Juve quindi a Leicester ha saltato la partita a Leicester non è stato proprio messo nella lista dei convocati per Leicester, per l'Inghilterra quindi ha dovuto giocare Di Lorenzo a sinistra ma qui a destra Di Lorenzo a sinistra ragazzi, Di Lorenzo ha sempre quel problema che si stringe molto, si stringe troppo e lo stesso gol l'abbiamo preso contro il Genoa per colpa di Di Lorenzo che non mantiene la propria posizione, ti hanno assegnato la posizione di terzino sinistro devi mantenere quella posizione, invece no, si stringe troppo, va troppo sotto a culibalia in questo caso poi anche nella nazionale contro l'Inghilterra si è perso proprio Shaw cioè non l'ha proprio visto a Shaw, non l'ha proprio visto si è centrato troppo e l'Inghilterra ha segnato in questo caso il Leicester la partita contro il Genoa la stessa cosa con Cambiaso e deve migliorare Di Lorenzo, deve migliorare e speriamo che lo fa in fretta perché non si possono subire sempre i gol per errori di Di Lorenzo e quindi Di Lorenzo, Di Lorenzo 5 Di Lorenzo 5 e sono stato anche troppo buono sono stato anche troppo buono Koulibaly Koulibaly ragazzi, oltre all'errore all'errore quando il Napoli ha subito il primo gol ha buttato la palla avanti e sbagliando le misure del passaggio e la squadra Leicester City è stata brava è stata anche veloce a ripartire e quindi grazie all'errore di Koulibaly il Leicester subito è passato in vantaggio 1-0 e quindi a Koulibaly oltre a quell'errore ha fatto anche altri errori però altri errori che il Leicester non ci ha puniti in quegli errori e quindi solo un errore ha fatto Koulibaly cioè che il Leicester si è punito poi gli altri errori di Koulibaly li ha apparati stesso lui li ha si è riscattato dopo l'errore recuperando sempre lui la palla quindi Koulibaly 6 Koulibaly 6 sufficienza piena Rachmani ma non lo so Rachmani è sicuramente un'insufficienza Rachmani a me ieri non è piaciuto tantissimo e non è piaciuto tantissimo a volte troppo impreciso nei passaggi a volte non si trova con i compagni e quello è il problema e il problema di Rachmani è che gioca molto poco e quello è il problema non è il problema del giocatore perché le qualità che ha non si discutono ma non è il problema del giocatore il problema è il minutaggio del giocatore il problema è come come ti può giocare una partita ad alti livelli questo Rachmani se in una stagione fa poco minutaggio quindi è anche più quel normale che Rachmani non ti garantisce quella prestazione più che sufficiente invece io gli do un 5 e più a Rachmani terzino destro Malqui Malqui che diciamo un po' ha dovuto sostituire Mare Rui l'assente Mare Rui che però l'ha sostituito Di Lorenzo sì sulla fascia sinistra però sulla fascia destra comunque ci ha messo Malqui perché secondo Spalletti Di Lorenzo poteva ricoprire meglio e può fare meglio di Malqui a terzino sinistro poteva anche mettere un guanciale su scena terzino sinistro che sicuramente penso meglio di Di Lorenzo poteva fare su quell'azione del gol vabbè comunque Malqui insufficiente Malqui a me non è piaciuto proprio Malqui per me deve fare solo la panchina Malqui per me deve fare solo il vice di qualcuno e Malqui per me anche quando arriva la prima offerta se ne deve andare se ne deve il Napoli deve subito accettare deve fare cash deve fare milioni deve fare soldi importanti per poi mettere nella cassa del Napoli fare entrare in cassa e prendi un sostituto un vice meglio a destra un vice di Di Lorenzo a destra molto meglio di Malqui e quindi Malqui 5 meno allora poi Piotr Zielischi Piotr Zielischi ieri secondo me ha fatto una prestazione sufficiente ha fatto una prestazione sufficiente ma diciamo Zielischi comunque rientrava da un infortunio perciò poi non ce l'ha fatta nemmeno a giocare tutti i 90 minuti però ha giocato una buona parte di partita e quindi apprezzo l'impegno 6 a Piotr Zielischi poteva fare meglio anche su occasione dell'area di figura e lì poteva fare meglio però apprezzo l'impegno lì però doveva fare meglio Fabio Ruiz Fabio Ruiz Fabio Ruiz ieri secondo me non ha giocato poi una partita bruttissima Fabio Ruiz anzi per me ha giocato anche bene per me ha giocato ha giocato anche bene è sempre troppo lento quello è il problema è sempre la lentezza che a volte porta a fare sbagli che poi vengono porta delle conseguenze quello è e e niente Fabio Ruiz se Fabio Ruiz è su scienza piena se la merita se la merita questo ragazzo che sta giocando con impegno però è sempre troppo lento Fabio purtroppo non non può diventare più veloce perché quello è il giocatore quello rimane quello rimane anghissà anghissà un'altra bella prestazione non sicuramente come contro la Juve però però a differenza della Juve il Leicester lo vedevo che che pressava subito alto che pressava subito alto lascia si sempre catenaggiato come la Juventus sempre catenaggio catenaggio e contropiede in questo caso il Leicester è giocato anche sfruttando gli errori del Napoli e si porta un punto a casa come se lo porta anche il Napoli in questo caso meritatamente che meritava anche la vittoria però comunque anghissà un 6 e mezzo barra 7 se lo merita però io gli do un 7 meno 7 meno ad anghissà buona prestazione l'attacco è arrivato il momento di dargli il voto al capitano voto secondo me arriva giusto giusto a una sufficienza piena Lorenzo insignia non ha fatto una grandissima partita però ha fatto una discreta partita e secondo me ha fatto una partita da 6 e secondo me se lo merita il 6 al nostro capitano Lorenzo insegna poi fascia destra e poi per ultimo votiamo al migliore in campo fascia destra fascia destra Lozano Lozano secondo me ha fatto una partita diciamo un po' deve deve ancora rientrare io sinceramente ancora lo devo vedere il Lozano di una volta il Lozano di una volta dopo l'infortuna ancora lo devo vedere quello è il Lozano di una volta ancora lo devo vedere dopo l'infortuna e gli do un 6 6 6 di fiducia e ha fatto una prestazione discreta secondo me il Ciuchi Osiman il migliore in campo il voto più alto del mio pagellone ma il voto più alto di sempre che ho dato a Dosiman dopo una ottima prestazione sono arrivate anche una doppietta che permette a Napoli di non perdere ma pareggiare ma ribaltare tutto ma riprendere subito la partita tra le mani grazie al nostro top player grazie grazie all'uomo grazie al giocatore che è stato pagato di più nella storia del Napoli complimenti a Osiman che ha zittito tutti ieri dopo questa prestazione strapagato Osiman strapagato strapagato di là 80 milioni ma in realtà sono 50 ragazzi andiamo piano ma in realtà sono 50 non sono 80 come definiscono quelli là che vogliono esagerare perché vogliono far mettere vogliono far capire che la società Napoli ha speso 80 milioni per Osiman invece no 50 e secondo me secondo me se le merita secondo me li vale tutti li vale tutti 50-60 quella cifra là ma volevo sentire e Osiman 10 che volevi dare a uno che ti ha risolto la partita a uno che ti ha fatto pareggiare la partita che stavi sotto i tuoi gol e te l'ha fatto recuperare 2-2 e quindi eh ragazzi penso che Osimane con Spalletti 20 gol in tutto li potrà fare ma non non dico 20 gol solo in campionato non dico 20 gol solo in campionato ma io dico 20 gol in tutte le competizioni compreso Coppa Italia compreso Europa League e campionato quindi 20 gol in tutta la stagione non in campionato stiamo attenti a quelli che capite e niente un po' un po' i sostituti votiamo un po' i sostituti che come al solito il signor Luciano Spalletti azzecca sempre i cambi con la sua esperienza massima con la sua esperienza come sempre Luciano Spalletti azzecca sempre i cambi per esempio prendiamo una Damunas che quando entra come se accende la lampadina accende la partita un Napoli più veloce un Unas che ha delle accelerazioni straordinarie e ogni volta che Luciano Spalletti lo mette e lo fa entrare in causa viene sempre ricompensato ma un po' da tutta la panchina perché ve ne accorgete dai voti che do alla panchina Damunas 7 meno Damunas entra dalla panchina fa una grande partita e quel poco che ha giova secondo me ha fatto delle accelerazioni straordinarie e guadagnandosi anche qualche fallo è stato ammonito anche su Junk grazie a un'accelerazione di Lozano l'ha dovuto fermare quasi ad ultimo uomo ma grazie che il difensore dell'Eister ha recuperato subito in tempo la posizione quindi non era ultimo uomo è stato ammonito è stato graziato su Junk alla 1-7 meno Matteo Politano ragazzi anche lui Matteo Politano non dimentichiamoci non lasciamo da parte che Matteo Politano ha fatto un cross alla perfezione l'ha messa a diritta sulla testa di Osimane che Osimane è dovuto saltare BAM Osimane preciso ma Politano veramente ha fatto un assist incredibile con il suo sinistro alla Poli messi quindi Poli messi Politano secondo me un 7 più se lo merita tutto Matteo Politano 7 più e niente l'ha messa il l'ha messa il niente l'ha messa secondo me quando è entrato è entrato anche bene secondo me se più se più se lo merita se più guancesus guancesus secondo me è entrato anche bene è entrato discretamente e 6 6 a guancesus 6 a guancesus Andrea Petagna Andrea Petagna quando è entrato Spalletti da come ho visto un po' in campo in Napoli mi sembrava un 4 4 2 barra 4 2 4 4 4 4 2 una cosa di questa ma Spalletti ha fatto bene a inserire anche Petagna perché Petagna poteva tornarci utile bravo Spalletti grandissimo Spalletti e dopo a Petagna viene anche la tua valutazione che è una valutazione stratosferica caro Lucianone e dopo faccio anche un bel discorso quindi il video viene lunghissimo e niente Andrea Petagna si merita tutto un 7 quando è entrato ragazzi Andrea Petagna lo devi fermare solo con il fallo e devi vedere se lo riesci a buttare a terra perché Andrea Petagna è un giocatore fisico un giocatore che ho mai definito Paolo Bonolis il caro Paolo Bonolis Lukaku italiano però non è proprio Lukaku perché alla finalizzazione è meglio Lukaku però guardate che Petagna ha fisico fa salire la squadra ha quasi le stesse caratteristiche di Lukaku soltanto Lukaku è più forte comunque complimenti 7 a Petagna 7 è arrivato il momento di dare il voto al nostro carissimo mister al nostro Lucianone Spallettone il nostro Spallettore Spallettone Spallettone è un voto nettamente positivo Spalletti ha riportato a Napoli quello che non sono riusciti a portare Sarri e Gattuso e anche nell'era in Celotti la mentalità che mancava che il Napoli non ha sempre tenuto non ha mai tenuto la mentalità e Spalletti la sta facendo diciamo aggregare nelle menti dei giocatori la mentalità che ha Spalletti è una cosa incredibile Spalletti ha grande personalità ha grande mentalità fa giocare bene la squadra l'ha dimostrato ieri azzecca i cambi l'ha dimostrato in tutte le partite che ha fatto a Napoli cioè quell'è lo Spallettopoli secondo me lo man mano lo vediamo sempre di più lo Spallettopoli Spalletti 8 è come fare a dare un voto inferiore ad 8 8 8 a Luciano Spalletti perché guarda che Spalletti anche sul 2-0 rimaneva sempre calmo sempre calmo ragazzi Spalletti è sempre stato calmo contro il Leicester in Inghilterra nel proprio stadio il Leicester contro il Leicester contro la squadra ostica di Premier League Spalletti Spalletti calmo calmo a dare le indicazioni calmo calmo sempre invece Gattuso mamma mamma ma metteva agitazione anche i giocatori guarda tu qui c'è Spalletti bravo Spalletti bravo Spalletti calmo 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 e niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate tantissimi like iscrivetevi al canale attivate la campanellina lasciate un commento fatemi sapere se siete d'accordo con me su tutti i voti se non siete d'accordo fatelo anche voi qui sotto nei commenti il pagellone e niente ciao ragazzi e forza Napoli sempre dai ragazzi prendiamoci quest'Europa prendiamoci quest'Europa League